Il servizio di refezione scolastica per tutte le scuole materne di Vittorio Escolitti partirà il prossimo 27 ottobre. A dare notizia il sindaco Muscate e l'assessore alla pubblica istruzione Gianluco Chipinti. Abbiamo lavorato intensamente e dichiarato il primo cittadino per offrire immediatamente il servizio ai bambini e siamo riusciti ad anticiparlo di oltre due settimane rispetto al passato. Questo è quindi un forte segnale di cambiamento a cui si unisce la rivisitazione dei menu per aumentare qualitativamente l'offerta della refezione. Sull'argomento è intervenuto anche lo stesso Chipinti il quale ha spiegato che sino al mese di dicembre il menu rimane a quello dello scorso anno ma con qualche piccola variazione mentre da gennaio è stato previsto un netto cambiamento delle pietanze puntando sulla qualità dei prodotti per cui abbiamo avvisato tempestivamente le scuole e le famiglie possono far richiesta fin d'ora per fuori del servizio pagando attraverso un bollettino in base al proprio Isee.